Torniamo a stasera, l'ultimo paese che affrontiamo è il Senegal. Il Senegal per un motivo, almeno all'epoca, un po' particolare. Se pensate ai paesi che ci sono succeduti fino adesso, sono stati caratterizzati oltre che dall'intercrisi, da questioni economiche, anche da questioni di conflitti interni. Il Senegal non fa parte di questo gruppo. E allora ci è sembrato normale, almeno noi, ci siamo chiesti perché scappano anche da un paese dove apparentemente le condizioni iniziali di questo movimento, di questa immigrazione sono completamente diverse da quelle della Nigeria o del Ghana. E allora abbiamo deciso di mettere per ultimo questo paese e farci raccontare da ASCAS 7, che molti di voi conoscono, dell'ufficio immigrazione della CGL di Lecco. farci raccontare da lui sempre le solite due domande per avere un piano di paragone rispetto agli altri del Senato, cioè per i che scappano dal Senegal. ASCAS ha detto che parlerà un po', poi ci sarà un video che ci tiene a farci vedere e che secondo lui ci dà degli spunti di riflessione per poi concludere la serata. Quindi vi ringrazio e rinnovo l'appuntamento comunque per lunedì. Grazie a voi. Buonasera a tutti. Oggi stasera sono qui, non sono da solo, sono accompagnato da due ragazzi, uno che è scappato dal Senegal, quindi dal Senegal è arrivato da pochi mesi qui in Italia, affrontando poi l'attraversata del mare Mediterraneo. Quindi ci potrà avere una testimonianza diretta su perché lui è scappato. Io cercherò di dare alcuni spunti, perché il Senegal rispetto alla Nigeria, il Mali, l'Eritrea, la Somalia, paesi dove ci sono guerre oppure ci sono anche dittature, giustamente la gente scappa per cercare di non morire, per salvarsi e salvarsi anche i loro familiari. Invece il Senegal è un paese che non ha questi problemi. In Senegal non c'è la guerra, in Senegal non c'è un dittatore. È uno dei pochi paesi africani dove c'è la democrazia, nel senso che tenete presente che noi siamo a 15 milioni, le ultime estime hanno fatto il licencimento nel 2013, le estime lì eravamo a 13 milioni e 500, nel 2006, perché ci saranno le elezioni legislative nel 2017, quindi hanno fatto una proiezione e siamo arrivati a 15 milioni di abitanti. Quindi questo per dire che è un paese che sta crescendo dal punto di vista demografico. Però la gente, ciò nonostante, la gente, soprattutto i giovani, non vuole restare insieme. E' un paese che hanno tendenza ad andare verso l'Europa. E questo cerco di spiegare perché le ragioni sono tante, ne citerò soltanto alcuni. negli anni 70, la Francia, avendo bisogno di mano d'opera, si è appoggiato ai paesi ex coloni francesi, qui che sono 16 paesi dell'Africa occidentale. Il Senegal si è proposto, perché c'era ancora il primo presidente senegalese, avevo fatto un accordo con il governo francese, c'era De Gaulle, per portare la mano d'opera senegalese a lavorare nelle grosse imprese francesi, tipo la Renault, la Peugeot e tante altre aziende grosse francesi. E da lì tantissimi senegalesi sono partiti verso la Francia. perché aveva una sua logica, essendo un'ex colonia francese, quindi lì non è il problema della lingua, dell'ambiamento, tranne il freddo. Quindi tanti sono andati lì a lavorare, non di gente che arrivava da Dakar, ma proprio degli villaggi e delle regioni. e lì apro una parentesi. Il Senegal, per presentare anche un po' il paese, è diviso in 14 regioni. Su 15 milioni, 1.600.000 abitano a Dakar. Tutti gli altri sono stati nelle varie regioni. Quindi chiudo la parentesi. E i senegalesi quando sono partiti in Francia a lavorare, chi andava in Francia a lavorare, con il guadagno, riusciva a mantenere la famiglia rimasta nel paese. e ci sono stati interi villaggi, quindi di gente che abitava in un villaggio, sono andati in Francia. Quindi era facile, perché è lo Stato francese che chiedeva lavorare l'opera, quindi le persone erano preparate, chiedevano tutte le autorizzazioni per poter andare in Francia a lavorare e quando andavano lì avevano tutti i diritti che poi avevano anche i cittadini francesi. Tenete presente che lì esisteva il franco francese, non c'era l'oro, quindi il franco francese pesava rispetto alla lira e rispetto a tanti altri momenti. Quindi se uno riusciva a guadagnare 100.000 franchi francesi, in Senegal ci capavano due anni. Quindi loro sono riusciti, tanti di loro, quando le loro diverse erano riusciti a sostituirsi allo Stato senegalese, quindi lo Stato che era abituato non a investire sulla popolazione, ma a fare poco. Quindi le rimesse dei cittadini senegalesi che lavoravano in Francia, loro hanno costruito scuole ospedali nei loro villaggi, quindi aiutando di fatto, sostituendosi di fatto allo Stato. E' vero che poi lo Stato ha costruito scuole, ospedali, centri medici, centri di formazione, però non erano abbastanza queste strutture. Per pigrizia, secondo me, lo Stato ha lasciato andare questa cosa. Alcuni, dopo anni di lavoro, quindi sono rientrati in Senegal, quindi anche con un po' di soldi e hanno costruito casa, hanno investito all'interno del paese, quindi chi era lì non lavorando, vedendo questo benessere che arrivava dall'estero, diceva, ma come? Se ce l'ha fatto Hickson, anche io dovrei farcelo, perché lui è andato in giro di 30 anni e è tornato, vedi, la situazione familiare è cambiata, la sua famiglia è cambiata da così a così, perché io non vado anch'io. E di lì tutti, fino a quando, fino agli anni 80, inizio l'anno 90, hanno chiuso poi i rubinetti, perché lì hanno cominciato a chiedere il visto d'ingresso per tante altre cose. Nel frattempo i ricongiugli medie familiari sono aumentati, quindi tanti poi hanno fatto, alcuni sono tornati, altri sono rimasti in Francia. Poi, dai anni 90, l'Italia ha preso il posto del Senegal, quindi dai anni 90, visto che c'era il boom economico, e non c'era il visto d'ingresso in Italia come in tanti paesi, i senegalesi che erano in Francia, quindi la terza generazione, la seconda o terza generazione, venivano in Italia per vacanza, cioè erano abituati alla vita di Parigi, poi da lì venivano in Italia per trascorrere le vacanze senza andare in Senegal. E quando tornavano in Senegal, le raccontavano anche ai loro amici, i loro vicini di casa e tutto. quindi tutti erano invogliati ad andarsene. Però c'è stata anche un'altra cosa. Siccome il Senegal vive anche nell'agricoltura, perché è un paese agricolo, per un po' di anni noi abbiamo vissuto la siccità, perché prima pioveva tantissimo, il Senegal riusciva a lavorare alla terra e a produrre l'arachide. Per un po' di anni il Senegal è stato il primo produttore mondiale di arachide che poi veniva esportato. Però l'arachide si fa con il sistema di monocultura, quindi impoverisce il suono poi alla fine perché lo sfrutti veramente. Poi quando c'è stata una siccità che ha durato quasi dieci anni, giustamente la gente dei villaggi della campagna si è spostata verso la città per cercare un po' il benessere. Però la città non è che offreva tante possibilità anche alle persone, quindi lì c'è stato l'esodo rurale, dalla campagna verso le grandi città. E delle grandi città poi verso l'Europa. finita il periodo della siccità che ha durato più o meno dieci anni, il governo senegalese non ce lo facevano più perché Senghor è andato via nell'85, poi quando è arrivato un altro presidente giù tramite sempre elezioni, il franco francese, Franco Sefa, perché noi abbiamo Franco Sefa, è stato svalutato, quindi non aveva più il peso che aveva prima, per tenere il titolo del franco francese. La Banca Mondiale e il Fondo Monetario Internazionale hanno imposto poi a tanti paesi africani, fra cui Senegal, dei piani di aggiustamento strutturale, che vuol dire tagli, quello che stiamo vedendo adesso, tagli alla spesa pubblica, spendirei più, quindi hanno praticamente cercato di dire avete speso tanto, la copertà è poca, è corta, quindi dovete cercare di risparmiare. Dimenticandosi però che il paese arrivava da dieci anni di siccità, dimenticandosi anche che il paese non ha risorse, risorse minerarie, non ce le ha, perché in Senegal, vivendo l'agricoltura, abbiamo solo delle aziende manufatturiere, che producono poco comunque, perché non sono grosse aziende. Abbiamo un'azienda che produce e trasforma l'arachide in olio, anche in caldecina, perché si può produrre anche tramite l'arachide la caldecina, il sapone, che poi vengono esportati nei paesi confinanti, e abbiamo la pesca, che poi vedremo, perché abbiamo un mare che poi è ricco di pesce. Fino agli anni 90, allo scoperto c'era il fosfato in un ragione del Serial, a 100 km da Cana, l'ho scoperto, e da lì hanno cominciato a estrarre il fosfato e poi trasformarlo. Però gran parte del fosfato che viene estratto, poi viene perché è un'azienda indiana che lo gestisce. Quindi capite bene che un paese che ha poche risorse nel sottosuolo, quindi ha poche possibilità di dare il lavoro ai suoi figli. e spesso anche l'istruzione, per effetto poi del presidente poeta che avevamo, l'istruzione non ha puntato tanto sulla scienza, cioè sulla tecnica, ha puntato soprattutto sui mestieri che poi di, come dico, sull'elite, l'istruzione generale, non sulla tecnica oppure sulla ricerca. Quindi, chi usciva dall'università, o andava a lavorare nell'arministrazione, oppure se andava bene vinceva una borsa di studio per andare a lavorare, a studiare in Francia. Però studiare in Francia, dopo anni di studio, non tornava al paese, perché il paese ha investito su lui, lui è rimasto là per anni a studiare, però finiti gli studi non è più rientrato al paese, è rimasto in Francia. Quindi è un altro pezzo che si è perso. Oppure andava a fare che cosa? A lavorare come impiegato, oppure nei ospedali e nell'amministrazione. E la gente, se non trova lavoro, cosa fa? E cercare di andare a migliorare la sua condizione, ma anche la condizione di vita dei suoi familiari. E' da lì che poi, tanti noi, abbiamo sempre detto al nostro governo, e tuttora ancora, dobbiamo cercare di fermare questa immigrazione. Immigrazione che parte, perché chi parte spesso, parte a mano in cuore. A nessuno piace lasciare i suoi familiari, la sua terra, i suoi affetti e poi andarsene via. Anche perché perdi un pezzo di te stesso. E difficilmente questo pezzo, vivendo qui, magari lo ritrovi, ma difficilmente viene ritrovato al 100%, per vari motivi che tutti noi sappiamo. E questa cosa sta praticamente influenzando tanti, tanti, tantissimi giovani che ci sono persi purtroppo, tentando di vendere in Italia, in Europa, oppure dopo aver vissuto per un po' di anni qua, difficilmente tornano al paese e riescono a riacquisire queste cose che poi li affette e tante altre cose che si hanno persi. Perché la vita in Europa non è facile per nessuno, per chi è nato qui, fino a morce e chi arriva da lontano. E in più, poi quando hanno cominciato a investire nei servizi francesi, dico, ma anche tante aziende europee, questi investimenti, e lo vedremo col video, nel momento in cui un'azienda viene a investire in Senegal, se io vengo a investire nella Medina, da dove arrivo, dove sono nato, c'è il guadagno, le risorse che poi l'azienda alla fine guadagna, non sono poi reinvestite all'interno del paese. Faccio un esempio, noi abbiamo scoperto, da dieci anni stiamo distraendo l'oro, con un metallo prezioso, ne parlavo con il DMC prima, in macchina, e tutti quando abbiamo saputo che avevano scoperto questo metallo, a Tambacunda, che è a circa 900 km di Dakar, tutti eravamo contenti, dicendo, meno male, che poi magari questa cosa aiuterà la popolazione di Tambacunda. a distanza di dieci anni la situazione non è migliorata, cioè nel senso che lì è una ditta israeliana che ha vinto l'aparto, il governo senegalese ha soltanto il 15% del guadagno, tutto il resto rimane a loro. Però noi ci siamo detti, è vero che porti via tutto, però il guadagno, c'è un pezzo del guadagno, prende almeno il 2%, lo investi sulle scuole, sull'istruzione, la formazione, lo investi proprio per cercare di migliorare la condizione di vita delle persone che ci abitano e ci vivono. niente da fare, a distanza di anni le cose di dieci anni le cose non sono cambiate, sono rimaste tale quanto. L'altro aspetto anche, che poi alla fine, due anni fa c'è stata una rivolta di gente che abita lì, nata e crescita qui, alla fine ha detto, noi abbiamo loro sottoterra, quindi ci cambiamo sopra, però siamo rimasti tali quanto. E noi in Senegal, sapete che poi un senegalese ci vive più con un dollaro al giorno, che sono pochissimi rispetto alla media di alcuni paesi africani, non dico neanche dell'Europa. E questo cosa fanno sì poi alla fine che la gente, vedendo queste cose, cosa fa? Tenta di spatriare perché dice, se ce l'ha fatto X, se l'ha fatto Momodou, perché non dovrei farcelo io? Perché ho finito gli studiati, ho finito anche la formazione, sono laureato, sono diplomato, però alla fine non ho niente in mano. Però queste sono scelte fatte un po' di anni fa, che poi vediamo le conseguenze da questo. Infatti il governo, all'attuale governo, sta cercando di cambiare rotta, investendo soprattutto nell'istruzione delle materie tecniche. L'altro aspetto che secondo me invole le persone anche a scappare è che ci sono state troppe politiche e la non chiarezza degli accordi che lo Stato senegalese ha siglato con tanti paesi dell'Europa. Perché ci dicevano sempre che un paese, state tranquillo, tranquilli, è un paese che va bene, non avete la guerra, non avete niente, però sta di fatto. Noi non siamo bene, perché ce lo dicono, però in realtà il paese non cresce. E se il paese non cresce, i giovani cosa fanno? Cercono di andare via perché dicono, almeno se vado, magari riesco ad avere qualcosa per me e per la mia famiglia. Per fortuna, non so se chiamano fortuna o sfortuna, sono arrivati i cinesi. Perché? Sia europei, soprattutto i francesi, anche gli italiani, tutti quanti, quando arrivano, cercano soltanto di sfruttare quelli che andassero. Perché il governo senegale è lo sbaglio più grosso che ha fatto. Ci sono delle zone franche dove le aziende straniere vengono, investono a costo zero, non pagano le tasse, quindi apertura totale. Non pagano niente, quindi per 5-10 anni tu non paghi niente. Sfrutti la malodotta a basso costo. Poi dopo un po' di anni, perché è una zona franca che hanno fatto delle zone franche. Dopo di anni si trasfiede in un'altra zona franca e così via. Alla fine è vero che dai un po' di lavoro alle persone, però la popolazione rimane povera perché non cresce. Il salario è quello che è. Cioè io ho dei amici, ho anche una nipote che poi è andato in Francia e è tornato, allora ha studiato, è tornato in Senegal. L'altra sera mi diceva, io a sapere non sei rimasto in Francia. Perché sono stato io a dirgli tornati in Senegal, non rimanere in Francia, tornati, tornati, non fare lo sbaglio che ho fatto io. Torna, ma tutti, anche suo papà, tutti l'abbiamo detto. Lei si è laureata in Ingegneria, in Dittoria di Comunicazioni. Però si gli ha apprendita di essere tornato giù, perché quando è tornato è stata assunta da un'azienda cinese, cioè che gli dà una miseria, come salario, dice quando facciamo lo stage non prendiamo neanche questo in Francia. Che vogliamo metti qua? Ingegneri per dirgli. Quindi suggeriamoci tutti gli altri. E questo con il benestare del governo senegalese. Queste cose fanno sì che poi alla fine la gente, è normale, dice perché devo stare qui? Vado, magari farò fatica, però al ritorno almeno c'è qualcosa che potrò fare. Lui mi diceva prima, se vado via almeno posso mandare il mio figlio alla scuola. E' vero che c'è la scuola pubblica, però a volte vai in una scuola pubblica e in una classe vedi 45 bambini. Cioè non esiste su questa cosa, questa cosa non esiste, quindi potrei sparire. Finisco, finisco, poi vediamo perché oggi ho parlato troppo. L'arrivo, anche l'arrivo dei cinesi non sta migliorando le condizioni dei senegalesi, perché loro sono peggio degli altri. E' vero, costruiscono infrastrutture, questo è vero, perché quando arrivano hanno costruito strade per collegare le varie città, per collegare le città ai villaggi. Quindi adesso le strade ci sono, non che non ci fossero prima, ma loro hanno poi aumentato le infrastrutture. Costruiscono stadi per giocare il calcio, costruiscono palestre, ospedali, però arrivano anche con le loro aziende. Arrivando con le loro aziende, la mano d'opera in parte è cinese, l'altra parte è senegalese. Però sta di fatto che si tratta soltanto di un'azienda cinese. Quindi il guadagno dove resta? Perché resta il paese. In gran parte viene poi portato via, quindi sono risorse economiche che poi escono dal paese. L'unica cosa che loro hanno rispetto ai paesi europei è che non ti danno dei vincoli per anni. Non ti dicono, come la Banca Mondiale oppure il Fondo Monetario, che tramite la comunità europea ti impugnano delle scelte economiche che tu devi fare. E queste scelte durano per anni. Non è che durano un anno o due anni, durano cinque, dieci anni, a volte venti anni. E tu hai le mani legate, non puoi farne altro, sei sempre dipendente di altri, non delle tue risorse. E questi cinesi, facendolo questa scelta, stanno poi scompusolando tutto il tessuto economico. Perché producono vestiti, scarpe, cioè tutte le cose che in Cina si producevano, li stanno producendo lì. La cosa peggio, però, è che poi sono arrivati e stanno comprando terre, terre, terre che finiscono più. E queste terre vengono poi utilizzate per l'agricoltura della frutta, della verdura, per poter, non per la consumazione locale, ma per esportare tutto questo verso la Cina. Trasformati e rivenduti anche a noi. Cioè, questo è per dirvi il sistema che c'è. E i contadini, giustamente, tanti contadini ci stanno rivelando perché dicono basta con questo sfruttamento, perché le terre sono nostre. Lo Stato li prende, li da. Lo Stato dice, no, non sono vostre, sono dello Stato. Quindi se il cinese ha bisogno, il numero cinese ha bisogno, noi lo diamo finché vogliono. Tanto ci costruiscono ospedali, scuole e strade. Facendo queste cose danno lavoro anche alle persone. Ma dimenticandosi che poi, se queste terre vengono sfruttate, non per dieci anni, ma per tre anni basta, la terra non produce più. Perché fanno una cultura intensiva. Oppure fanno la monocultura per certi prodotti. E diventa un problema per la popolazione. Ecco, questo ho cercato di spiegarvi le ragioni per cui, non essendoci la guerra, non essendoci l'affare, non essendoci un dittatore, ciò nonostante i senegalesi continuano anche oggi a emigrare verso l'Europa per cercare di migliorare la loro condizione di vita. A torto o a ragione non sta a me dirlo. Però mi piange il cuore perché vedo tanti giovani, sono giovani. Cioè, metà della popolazione senegalese è giovane. Cioè, ha almeno di 40 anni. E si viene qua quando giriamo nelle nostre strade, nelle nostre città. È giovane. Quindi, è il futuro del paese che sta andando. Perché spesso sono i migliori che se ne vanno. Sono i migliori che se ne vanno. Ecco, mi fermo qui. Quindi, vi pregare di vedere un po' il video. Così almeno ci dare anche altri spunti delle, scusatemi, delle poccate che noi facciamo per cercare di sfruttare i nostri paesi africani. Prima, ragazzi, un attimo il discorso, quello di chiamare quello che vuoi chiamare tu. Introduco solo, per esempio, un pensiero di decidere a rimetti lui di prossimo o eventualmente in futuro. I ragazzi qui scappano, non c'è la vorera, come diceva As, giustamente. Arrivando a noi, cominciamo a pensare appunto a quello che leggevo prima, che scriveva Marco, no? Poi arrivano qui e noi dobbiamo trovare una soluzione qui. Perché loro arrivano qui, indipendentemente dalle soluzioni alte, grosse, che si troveranno, se si troveranno là. Capite che un ragazzo senegalese che viene qui e fa tutto l'iter che stanno facendo anche tutti gli altri, che abbiamo visto in questo ciclo, nigeriali, eccetera, che deve andare in una prefettura a raccontare che lui qui non perché ci lavorerà, non perché autoscappare, ma perché non riesce più a lavorare. Capite anche voi che è praticamente impossibile, cominciamo un altro inferno. Dopo, la decisione di non stare nella propria terra perché non si può stare. Dopo, e questo lo aggiungo, perché giustamente As raccontava che negli anni sessanta, settanta, i seneglesi partivano, ma partivano con l'aereo, per dire, organizzati, arrivavano, scendevano, c'era lavoro. Questi sono giorni che partono come partono, deserto, lo sappiamo, lo abbiamo sentito da tutti quelli che sono stati qui. Quelli che partono e che arrivano, che non sono tutti quelli che partono, arrivano qui e, non voglio fare una classifica di questa bruttura, ma rispetto agli altri che possono raccontare dei loro paesi di dittature, i seneglesi non possono. E quindi comincia una cosa, una fase, e questo dovrei chiedere, una fase buia, infinita, cioè non c'è scampo, non c'è un appiglio, magari non ci sarebbe questo comunque, ma loro proprio sanno di non vencerlo. Quindi partire, già sapendo questa cosa, credo sia ancora più terribile che per altre nazioni, credo, non so a cosa ne pensi. Sì, penso proprio che sia così, anche perché se vediamo quanto l'Unione Europea, non l'Italia, quindi l'Unione Europea, 14 milioni dallo Stato Senegalese per 5 anni, questo accordo è stato firmato, cioè questo video l'hanno girato in ottobre 2015, un anno fa. E' uno dei accordi sporchi che l'Unione Europea sta firmando con tanti e tanti paesi, fra cui il nostro. Hanno scoperto in Senegal da poco il petrolio, una guerra adesso, tutti, perché? Poi, pur essendo un paese democratico che elegge il capo dello Stato, che elegge i diputati, democraticamente, perché noi anche qui votiamo, però è la politica che gioca, non gioca, non rispetta le regole, gioco ma non rispetto le regole. Ci dà della camomilla, io lo chiamo così, perché quando accede alla televisione ti fanno addormentare. E io lo chiamo camomilla, come tanti altri, perché ti fanno credere che delle cose che non stanno l'intera nel cielo. Poi vai a scavare, a fare delle ricerche, vedi che c'è dello sporco, c'è del marcio. Il presidente che c'era prima, sapendo che c'erano le elezioni nel giubile 12, e sapendo che hanno scoperto questo petrolio, perché lo stanno cercando da anni, ha tutto nascosto, lui e il suo adulto, per fortuna il signore guarda giù, ha fatto sì che ha perso le elezioni, non dite bene, le ha perse, cioè non ci poteva credere lui, le ha perse. L'attuale presidente, che era suo direttore di campagna elettorale, che poi si è andato via perché il partito lo si è spaccato, anche lui si è candidato, sapendo di quella porcata, scusatemi. Quando è stato eletto, il primo decreto che ha firmato è quello di dare mulaust al suo fratello, al suo fratello che ci sono quattro aziende, una è neerlandese, quindi olandese, una australiana, australiana, una francese, che poi loro non mancano mai, e una americana, e una britannica, quindi cinque, lo stato senegalese ha solo il 10%, solo il 10% e questo 10% la licenza per poter collaborare, perché hanno scavato, hanno fatto le ricerche, quindi è una fase lì, che fanno le aziende straniere, che hanno le capacità, e poi una volta che il petrolio l'hanno trovato, quanto barrile possono essere, cioè hanno fatto tutti gli studi, deve anche produrre, trasformare, vendere, esportare, per il mercato interno e per il mercato estero. E poi c'è tutto l'indoto, che poi crea l'occupazione. Però, questo 10%, secondo voi, basteranno per i senegalesi? Tanto in domanda. E loro cosa ci hanno detto? Sì, perché di fatto ci saranno tante aziende che potranno creare l'occupazione, perché vendranno l'elettricità, il gas e tante tante cose. Per essere fatto che il fratello l'ha scoperto, è stato il primo detenuto che l'ha firmato, affinché lui diventasse socio al nome del popolo senegalese con questi europei e poi americani. Questo, perché questo poi è stato scoperto, perché poi si scoprono, il secondo prevenire democratico, la scelta si è rivellata, infatti, adesso stanno rinegoziando tutto, giustamente, perché l'opposizione e tanti altri senegalesi hanno detto no. Qui, visto che c'è, voi avete preso, cioè le accordi di prima firmate dall'altro governo, però adesso c'è un altro contratto, per cui facciamo il 50-50 così almeno vediamo come è la situazione. E queste sono le cose, tante e tante altre cose che, quando io ci penso, le dico, mi viene una rabbia dentro, che non vi dico, cioè io come tanti altri. E questo non va bene, e la gente fa sì, perché alla fine uno viene a scoprire, lo cos'è sto per fare, me ne vado. E secondo me quella non è la soluzione. A proposito del fatto che non sia la soluzione, vogliamo parlare con il ragazzo che ha deciso, invece... Allora, grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Confermo quel che ho visto il video perché è la prima volta che lo vedo, quindi è la realtà, però c'è di peggio, questo è solo una piccola cosa, ce ne sono tante altre cose brutte che poi il nostro Stato con l'Unione Europea fanno su questo. Questa è la testa. Io sono contadino, facevo l'agricoltura, quindi ciò che fanno nel campo agricolo è peggio ancora perché vi ho dato esempio dei cinesi, ma prima di loro c'erano gli altri. C'è uno strumento vergognoso del sole e del sottosolo del paese. Io ho dovuto partire perché non riesco più a lavare la terra. C'è poco spazio. E sul 100 che arrivano, perché ho fatto la traversata, sul 100 75 muoiono. Noi vediamo il mare, però nel deserto chissà quanti. Nel deserto perché lì almeno il mare quando è siena tu vieni. Nel deserto quando è siena, anzi a volte vanno e poi ti lasciano lì. Quindi c'è anche l'istruzione che poi lì quando non hai, per arrivare a certi livelli, se i tuoi genitori non hanno i mezzi economici, difficilmente puoi andare avanti. Quindi devi mollare per forza perché una famiglia di 10-15 persone, se lavora solo una persona, difficilmente tu puoi andare avanti a stagione perché è questo. Questa è la mia famiglia di Montatini, la mia famiglia di Montatini aveva sempre avuto una famiglia di delle bestiarie. Durante gli anni di siccità, non essendoci più l'acqua, difficilmente potevamo lavorare la terra, la terra, potevamo portare le bestie a pescolare. Quindi era diventata complicata la situazione. Io la metto in un villaggio proprio del fondo del Senega e chi vive lì tocca la povertà con la mano perché ti alzi la mattina e non puoi andare a lavorare la terra. Ti piaci in cuore perché ci sono gli altri che hanno fatto l'accordo, quindi ti portano un pezzo, se tu avevi tre, talmente lo portano in due e mezzo. La mia famiglia riguarda il nostro lavoro, la mia famiglia è di riscata che vi passano i cambiamenti. Oggi mi ricerca la mia famiglia nella mia famiglia. Ora non ho fatto la mia famiglia. non con l'intervalle non con l' lighthouse non con l'associazione non con l'associazione non con l'associazione nel rischio non con la classe ma ma qu'è la conviene so che il futuro di un paese dipende soprattutto dei giovani io sono giovane ho dovuto partire male in cuore perché pensavo la mattina perché lui è il maggiore della famiglia vedevo i miei fratelli non potevano neanche fare la colazione li guardavo, li guardavano, ci guardavamo e poi ognuno la persona è strana senza fare la colazione queste cose li vedo per mesi e mesi frustrante alla fine vedendo come la gente che parte dico perché anche io non tempo almeno avrò qualcosa da mandare giù per sfamare queste persone c'è fratelli e sorelle e anche i genitori mia mamma un giorno si è malata costava poco il medicinale non riuscivo neanche a andare a comprare dentro di me mi stavo perché per ogni altro essendo il fratello maggiore della famiglia e delio non è tornando a partire per fare con la colonna la cosa che mi ha detto io la cosa che mi ha detto io la cosa che mi ha detto io Ma prima cosa dì ho detto, per dirgliare voi, bisogna sacrificare la tua famiglia per una tua famiglia, senza davvero dimenticare la famiglia per la famiglia. Questi un po' che se ha giusto, nessuno si non si sa Sho s'eva di farro. Nessuno lo ha ha compagnie, la città si chiore un po' che va solo a filmato. Non è che ciò si va pezuto dalla casa. Non è che la città sento, chiede su che la città, se divia la garganta e non canta il pesante, che si prendono l'esercitazione dei peti, ed è un po' di repugna che si non si so. ma debba inQuità ci sono alcuni ci hanno aperto il tema ma che si stanno colpire non lo so n'è anche il mene fano messo ma Cioè ho vissuto delle cose terribili per arrivare in Italia perché durante la traversata del deserto i libici oppure i noritani ci legavano come delle bestie, cioè tutti attaccati loro, ammazzati proprio come delle bestie. Non so se avete presente, cioè i camion ti attraversano il deserto. Se per fortuna ti attormenti e cadi, lì è tua morte perché la macchina non si ferma e non torna indietro. Se poi, essendo tuo amico o tuo fratello, tu cerchi di andare a fermarti e li ti buttano giù come lui. Quindi, cioè ciò che noi diciamo, ci sono tanti morti all'interno del mare, ce ne sono di più durante la traversata del deserto. Però io sono stato, io come tali anni, siamo stati spinti dal volere, di questo voglia di dare una risposta economica, almeno alla famiglia. Però guardate, una volta in Italia, mi sono caduto le braccia perché ho detto, caspita, chi me l'ha fatto fare? Perché il suo visione è un'altra cosa che mai avrei immaginato, perché qui non è nello lato, è duro, cioè proprio duro, duro, duro. Questo non mi sono lato, io sono lato! Ma cosa cosa stai firmati, per cui ti farai? Perché io ho avrei una ruota? Io ho avrei immaginato. Ma prima volta mi fa fare, perché io non ho avrei. Io ho avrei, sai cosa stai vivendo, mentre voi cominciano. Inoltre, io ho avrei una famiglia che ne vivendo con me, la mia famiglia è una nuova. Io ho avrei, sappiamo di quando, ma sentire. Non, 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 non. Non, 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 non donerò tutto, perché come dicevo prima, per sovvenire ai bisogni della famiglia, ero in maggiorità della famiglia, però quando sono arrivato in Italia, quel poco che riesco ad avere, perché faccio il parcheggiatore davanti all'ospedale di Merate, sono lì, con 2, 3 euro, 5 euro che riesco ad avere alla giornata, anche se sono 20 euro, preferisco non mangiarla e inviarla alla famiglia, perché so che quando arriveranno 10 persone potranno mangiare, so che ci sono tanti italiani, ci sono tanti giovani italiani che non hanno il lavoro, per cui mi sto rendendo conto di queste difficoltà, però dovete capirmi, non potremmo stare giù. E' che non dimenticare un pezzo, lì non sono andato a trovarlo, ogni tanto passo perché avevo la sede vicino, mi fermo e poi parlo con loro, cioè non è bello che se lì piove, ne devi far fare, però devi starci perché almeno se sono 5 euro ve li porto a casa. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Mi avete applaudito, vi ringrazio, però avrei preferito restare giù e sentire e vedere il sorriso dei miei bambini, della mia famiglia e dei miei genitori contenti perché io ho portato cosa a loro. Grazie. Grazie a tutti. 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 di persone dietro di voi, di cui metà sono giovani. I suoi figli hanno meno di vent'anni. Quindi pensiamo un po' ai suoi figli, non ai miei, agli altri. Da qui a quarant'anni cosa faranno? Cosa troveranno? Noi ci siamo salutati, sono andate qui. Ci sono delle domande? No? Noi intanto... Siccome conosco AS da qualche anno, volevo capire la tua situazione quando tu sei venuto in Italia, rispetto a quello che vedi dai tuoi conterranei, dai tuoi compaesani che arrivano adesso, da questi ultimi anni, la tua è stata più una scelta oppure anche tu hai avuto una costrizione così motivata dal fatto di dire? Cosa sto qua a fare? Perché tu facevi il paragone, hai detto i contratti che venivano fatti negli anni 70, negli anni 80, per cui c'era più l'incentivo, la motivazione di sentirsi persone, di sentirsi comunque garantiti in un certo senso. Sentendo lui, pensando che una persona di 35 anni, quindi non è un ragazzo di 20 anni, con tutto alle spalle, con tutto un vissuto suo. Ecco, vorrei capire che cosa ti senti tu in rapporto alla tua esperienza rispetto a quella sua, alla sua età di adesso e quella dei ragazzi di 20 anni che arrivano. Allora, la mia è stata una scelta, perché io sono arrivato qui nell'89, quindi era uno dei primi e quando sono arrivato, dopo aver finito gli studi, che per fortuna i miei, mi hanno fatto fare, io avendo una, vabbè perché non piace dirlo, però essendo nato, cresciuto per fortuna da una famiglia, dico benestante, perché la nostra famiglia ormai hanno un nome che tutti sono conoscono, conoscono in Senegal, perché i miei sono stati i primi fotografici del Senegal dell'arfica occidentale, per cui hanno sempre viaggiato, insomma, lo faccio breve. Quando poi sono arrivato, perché mia cugina lavorava già all'ambasciata italiana, francese e galese, ecco, per sfida, lei mi ha detto, guarda, se riesci a lavorare anche quando ho potuto invito. Mi ha invitato, mi ha invitato, sono arrivato, poi mi fa, mi sono fermato e ho conosciuto, lei era molto amico di padre Ferdinando Colomo, se non sbaglio, della Caritas di Milano, mi parlano degli anni 89, e da Roma mi ha detto, andiamo a trovare questo padre, perché facciamo un missionario in Africa e ci sono conosciuti, siamo arrivati a Milano, abbiamo parlato e mi fa, ma cosa vuoi fare, torni o resto a trovare? Non lo so, mi fa, guarda, ti presento un altro, c'era un altro prete, padre Stefano, dei missionari della Consolata di Begara, che c'era lì, abbiamo chiacchierato in francese, e poi alla fine mi fanno, ma guarda che a dicembre uscirà una legge, la legge Martelli, quindi se tu sei qua avrai per lo stesso giorno per me la raccontare, appunto. Poi infatti così fu, è stato, e poi mi sono fermato. Non mi dico i miei, mi hanno detto tutti i colori, infatti mia mamma per tre anni non mi ha parlato, perché, giustamente, quindi è stata una scelta mia. Però vedo, rispetto a loro, che non è una scelta anche loro, di vita, però rispetto alla mia, ma a tanti altri che erano arrivati, bello male, erano in pochi, la loro è più drammatica. Io mi sento però fortunato, e non lo nego, mi sento veramente fortunato, e a volte mi vergogno anche. Cioè, nel senso che dico, caspita, guardano loro, guardano tanti altri, e dico, no, non è possibile. L'altro giorno sono passato con la mia macchina, loro sotto la pioggia, volevo parcheggiare e camminare. Infatti così l'ho fatto perché proprio non è possibile. Cioè, non è possibile. Infatti sono andato insieme a lavorare, però ero triste dentro di me, perché li ho visti davanti, cioè, con tanta acqua che scendeva, ma, guardate, non è, quindi, a volte è dura. Prego. Intanto, esprimo un grazie sia a Musè, per le cose che ci ha detto e per la sincerità con cui si è raccontato, ha raccontato questo suo pezzo di vita così duro, così drammatico. Io credo che davvero racconti di questo tipo dovrebbero girare un po' di più. E per insegnare un po' l'opinione pubblica, davvero, con chi abbiamo a che fare, chi sono le persone che sono oggi presenti qui da noi, cosa hanno attraversato, quale è stata la loro, le motivazioni per cui sono arrivati qua e allora magari l'atteggiamento di tanti che non sono assolutamente accoglienti, sono anzi sprezzati verso i rifugiati, verso i richiedenti esili, oggi sono qui, magari qualcuno in più potrebbe cambiare l'opinione, cambiare l'idea e essere un po' diverso. Sono tante le cose, io non voglio parlare, voglio solo fare due bellissime considerazioni. Intanto io sono veramente convinto del diritto alla migrazione per l'uomo, migrazione connaturata alla natura umana, io credo che davvero dobbiamo mantenere questo diritto che deve essere garantito per tutti. Detto questo, però, il diritto di migrare deve andare anche di pari passo verso il sapere dove si vuole andare, verso il sapere che cosa si trova. Oggi con quegli strumenti che abbiamo sembra davvero impossibile pensare che in Senegal, per esempio, arriva un'immagine dell'Italia, del nostro paese, dell'Europa così sfalsata. E allora mi chiedo, ma il governo, oltre a tutti i vari errori che ha fatto, di cui ci avete parlato, ma che cosa fa per esempio per raccontare e dire esattamente come è la situazione anche ai propri cittadini? Quali sono i rischi di questi viaggi? Qual è la criminalità che sta dietro a questi viaggi? E soprattutto qual è il destino sul fatto che qualche anno fa si veniva in Italia, si veniva in Europa, c'era un susseguirsi di decreti flussi, sanatorie, si entrava anche allora in modo illegale, in modo illegittimo, ma poi c'erano questi provvedimenti che sanavano le situazioni e si aprirono un futuro. Oggi credo che una legge di sanatorie sia assolutamente lontana di luce dalle prospettive, quindi la possibilità concreta che loro possano in qualche modo avere un futuro, se non davvero seguente a vita. E l'ultima cosa, ricordo che Asmi mi aveva parlato di un esperimento, di un'esperienza di agricoltura sociale, dove con un investimento fatto dal governo ma anche con la cooperazione, qui voglio ricordare delle battute di certe parti politiche che dicono aiutiamo le Casaloro, stiamo vedendo come li stiamo aiutando Casaloro, ma insomma c'era un esperimento molto bello che era quello di agricoltura sociale, è stato avviato qualche anno fa, la domanda è uno se puoi raccontarlo, due se ci dici che futuro può avere e se sta credendo, che è una delle possibilità insomma. Grazie. Raccogliamo. Raccogliamo, ok. Ciao a tutti, credo che tra l'esperienza di As come scelta e quella di Musse come quasi è una cosa obbligatoria per una condizione di povertà che l'ha spinto a fare la scelta che ha fatto ci sia la condizione di tanti ragazzi che vengono qui per il congiungimento e che magari hanno, di solito hanno deciso i genitori motivando la scelta della venuta in Italia come ti porta a fare una vacanza in Italia e poi magari li lasciano qui senza tante spiegazioni o magari vanno a scuola e hanno un percorso di studi oppure magari lavorano anche però vengono facchi venire in Italia anche se quei genitori o non lavorano o sono in condizioni non esattamente di stabilità economica e a me questa cosa fa tanto pensare è che i ragazzi non hanno nessuna possibilità di scelta si trovano in un altro posto in un altro luogo con un'altra famiglia con altre regole magari con la seconda moglie e perché vengono fatti venire su se non c'è una possibilità di migliorare oppure ti faccio venire su ma sei obbligato a lavorare non puoi nemmeno andare a scuola ma al lavoro sanno benissimo che non c'è perché i genitori vivono già da 10 o 20 anni qui e anche il fatto di non dire niente perché è vergognoso lo capisco benissimo però in alcuni casi se la comunicazione non passa le cose non possono cambiare sicuramente per la costa del Magreb è più facile le comunicazioni sono più immediate per cui tanti che erano qui sono tornati ed è un po' più semplice ma se tante persone non si decidono a dire qualcosa e siete voi i primi ad essere credibili credo come si fa? credo che la speranza sia nelle seconde generazioni sperando di prendercene ancora meglio di quanto è successo nelle varie varicine per dirla in modo semplificato e continuiamo a lavorare bene, rispondo allora sul nel domande che è nato Gorino su che cosa fa lo Stato senegalese su questo? cioè che cosa propone il giusto in realtà? allora lo Stato senegalese come dicevo prima si è reso conto di aver sbagliato almeno così a parole dicono poi vedremo con i fatti di aver sbagliato su tre cose la prima questi accordi che ha firmato con l'Unione Europea questo è uno dei tanti tanti altri la seconda accordi che ha fatto anche con il governo della Repubblica Popolare della Cina la terza è quello di non cercare di fermare i trafficanti di esseri umani mi spiego perché la rotta che intraprendono loro si sa eh? si sa benissimo quindi hanno fermato stanno fattugliando le coste quindi lì nessuno parte anzi se ti pregano vai in galera però per via a terra no quindi appa cioè passano in Senegal prendono i frugoni vanno in Mali Mauritania Mauritania attraverso il deserto arrivando fino a Gares poi la Spagna e poi arrivano cioè e si sa quindi tu come governo cosa fai? fai l'accordo con gli altri governi confinanti e blocchi il traffico dei trafficanti e si sa che questi trafficanti che sono non è che hanno la testa pensante qua maia non è che stai pensare in Italia un'altra possibilità, se tu vuoi prendere la via più veloce, secondo i loro canoni, che è quella della Libia, arrivato in Libia, i libici ti mettono in galera, ti danno il telefono, ti dicono, che abituai e ti dici di mandare 1000 euro, altrimenti muori, ti fanno male, quindi lì paghi anche un altro, quindi se li passano, quindi il trafficante che ti dice se tu vai via da adesso, è tutto, è l'altro che ti dice no vai dalla Libia, lì è sempre fortunato, cioè sono due trafficanti che stanno cercando il loro, ti stanno facendo i loro affari, e quando una volta in Libia ti mettono in galera, bastonate con il telefono, chiamano i tuoi, disguarate, e a volte rimangiamo lì, chissà quanto, perché la famiglia è giù, cioè non la patrini, fino a quando tu riesci, per altri modi, oppure i libici ti danno un impo di induttore libico, ti fai lavorare per 2-3 mesi, ok, non ti dai sogni al mese, no, tu lavori per lui 2-3-4 mesi per pagarti il viaggio, però di solito non è, quindi sono poi 2-3 mesi che tu lavori gratis, poi dopo 4-3 mesi per pagarti il viaggio, 5-3 mesi dice all'altro, ok, poi vai, ecco questo è che mi dicevi, ecco ecco vai e poi vai, e ti devono vai a morire, e ti devono vai a morire, ecco questo che il governo, dicevo che il governo, noi ma tante altre diciamo al nostro governo di poterlo fare perché c'è modo di fermare questo andato verso l'Europa però manca la volontà politica secondo me. L'altra cosa che noi stiamo facendo anzi torno indietro ultimamente ha firmato quando il Presidente del Consiglio è andato lì un accordo bilaterale per il rimpatrio dei senegalesi. L'hanno proprio firmato il governo perché Renzi è arrivato e gli ha trovato ok, noi ti diamo i soldi però tu devi garantirci l'impatrio accelerato dei cittadini senza il sacerese quando è una violazione dei diritti perché nel momento in cui il comandante dell'aereo dice che lui non può salire, non può salire però se lo prendono e lo portano al consulato senegalese, vedono qui lui il senegalese il console è costretto a dare un urlasso al suo rimpatrio. Di quattro anni non ci sono neanche più di rimpatrio delle persone perché lo Stato italiano però l'accordo l'ha firmato e secondo noi questo non è la strada giusta perché quella è sbagliata, la strada giusta è quella di fermare, la cosa a monte. Fermi lì le persone, non arrivano, dai delle prospettive di vita, di sviluppo ai giovani investendo nell'istituzione, nelle infrastrutture, cioè in tanti settori dove la gente può lavorare, dove le aziende possono investire però non che tu apri tutto e dice alle aziende, venite, li mettete in una zona franca, non pagano le casse per 5-10 anni e danno due soldi alle persone. Su un'altra domanda, noi un po' di anni fa avevamo fatto un progetto finanziato da una parte da un comitato per la pace e la cooperazione di LECOM con la legge, la cessazione dei senegalesi e questo progetto per siamo andati, ti ringrazio che avrebbero ricordato Gorino, siamo andati in un villaggio a Moro che dista di quasi 90 km di NACAR perché uno dei nostri villaggi aveva dei terreni, ce li avevano messo a disposizione, abbiamo chiesto ai giovani del villaggio se potevano lavorare e tutti loro hanno espresso la volontà di lavorare da terra, gli abbiamo chiesto quanto avevate bisogno, l'hanno quantificato, abbiamo preso il contatto con un'azienda perché la cosa che serviva per loro soprattutto è la motopompa per tirare sull'acqua perché sotto il sole c'è tanta acqua, 3-4 metri, massimo 6 litri di acqua quindi loro dicevano se abbiamo la motopompa possiamo lavorarla a terra, infatti ci siamo messi in contatto con un'azienda di gelomagna che produce e vende le motopompe, ce l'hanno regalato e abbiamo comprato però giù tutti gli attrezzi un nuovo cittadino italiano al Borghetti che andava in pensione che aveva delle competenze per quanto riguarda l'agricoltura ha dato la sua disponibilità, siamo andati giù, quindi abbiamo fatto i progetti insieme ai ragazzi però gli abbiamo detto guardate noi vi spingiamo, però dopo un anno dovete camminare con le vostre gambe infatti così fu, cioè vi parlo di sei anni fa e gli abbiamo detto guarda questo per creare un effetto leva se questo progetto riesce dovete capire che poi ci sarà la possibilità per altri 20 giovani di lavorare nel campo agricolo perché con il vostro guadagno lo mettete da parte, quindi il guadagno viene diviso in tre parti una parte per le spese, quindi mettono in una parte, una parte viene trattenuto dai ragazzi e l'altra parte lo mettono in una cassaforte dopo due anni, perché noi avevamo pensato un anno era troppo poco, abbiamo visto che le cose andavano perché siamo andati giù, hanno fatto le foto, siamo andati giù, hanno visto che hanno cominciato a coltivare ortaggi cioè cose che poi io non avrei mai visto perché per l'acqua infatti dopo la cosa è andata avanti, i ragazzi stanno andando avanti quindi intorno erano 16 milaggi, quindi la cosa si sta ampliando e loro vanno tramite le loro gambe noi li abbiamo seguito per tre anni, adesso lui è tornato e è andato in Burkina per fare la stessa cosa e lì avevano speso 20 mila euro, pochissimo, però la cosa sta andando e io come tanti altri ci sentiamo orgogliosi di aver fatto un piccolo pezzo almeno alcuni giovani stanno lavorando, come nel campo agricolo l'unico povera che hanno, ormai è diventata una canzone, erano i cinesi ecco, insomma, questo per i giovani è vero, mi rendo conto che tanti, però prima di rispondere devono aprire una parentesi se me lo consenti noi, quando io vado giù prima, non ho sempre fatto per anni mi invitano in televisione e alla radio perché intervenivano qua mi chiamavano da Senegal la radio, una televisione che parlavo dei nostri problemi perché lo faccio di messiere e quando vado giù mi invitano e tutti quelli quando prepariamo il programma mi dico, io devo parlare prima di una cosa direi Senegalese la verità come si vive in Italia non ci danno un nome però sapete che in Italia non è l'allorato cioè, se siete d'accordo bene se no, ce ne chiamate un altro quindi questo e tutte le volte quando vado lì la prima domanda che loro mi fanno è come si vive in Italia e io per 10 minuti devo raccontare la fatica che tutti noi in primis gli italiani poi i migranti mi fanno in Italia e questo lo dico e una volta qualcuno mi ha detto ma se è così cosa fai lì? perché non tornate? in diretta eh? perché stai parlando fai intanto il sapotello cioè se l'Italia è così dura come dici tu perché non torno in Senegal? cioè al momento mi è spaziato chiaramente sì però mi ha detto va bene la mia era negli anni 39 quindi c'era il boom economico si stava bene ma adesso dal 2006 fino adesso le cose sono cambiate quindi vi sto riportando le cose la verità mi stanno sentendo probabilmente quelli che lavorano all'ambascia d'italiano quindi le cose che sto dicendo è la realtà potete andare su lui e tutte le vedete anche perché loro con la parabola con gli satelliti vedono hai uno cioè non capiscono il italiano però hanno il telefonino vedono tutte le altre cose quindi bene o male poi se chiedi ti dicono la situazione è così e poi adesso in mass major alcuni senegalesi hanno anche qui dei rappresentanti che poi fanno da tramite su questo quindi io dico sempre alle altri noi dobbiamo veicolare un messaggio uno di pace ma anche di verità dire alle persone come stanno poi se uno vuole emigrare buon per lui però il mio compito come tanti altri può dire la verità come si dice in Italia non nasconderla perché non va bene non giova né a me né a altri né a nessuno ecco chiudo dicendo che tutti gli altri che portano poi magari hanno la seconda moglie e non lo dicono poi portano il figlio che ha già già grande cello lo portano e non lo vogliono neanche lo vogliono mandarlo a scuola dicono quando lui ormai da tre anni immobilita oppure in casa integrato oppure ha perso il lavoro noi gli stiamo dicendo come associazioni di dire guardate se tu li vuoi portare per farli fare con la vita lascia giù però è difficile perché ti dicono almeno io lo porto qui a un futuro se viene guarda padre l'insegnario italiano ti fa questo imparare un mestiere almeno magari da qui a un po' di anni le cose cambiano avrò un lavoro se le mani giù non ha nessun futuro e lì cosa dici a un genitore che ti fa questo discorso se lì non sai cosa dire cosa dire noi stiamo facendo il nostro meglio però il nostro obiettivo anche il mio non era quello di fermare le persone giù ma di dire la verità come stanno perché ognuno è libero e sceglie dove se andare o puoi stare io non ci tengo a dire un ultimo una cosa che quando sono arrivato per fortuna dico grazie che ci siete padre e angelo veramente lo dico col cuore perché io col poco di italiano che parlo l'ho imparato grazie ai padri di Venera veramente perché mi hanno fatto insegnare l'italiano io andavo a lavorare la sera ero lì tutti tutte le sere da lunedì alla domenica con i volontari i vari volontari ad aiutarli anche dagli altri a imparare la lingua italiana perché è la prima cosa che tu devi imparare prima e ci hanno aperto ci hanno aperto la casa io da Milano non sono tutto da Roma ho detto a mia cugina a mio padre mio figlio suo padre Stefano mi ha detto vieni a Bevera c'è dopo averli parlato della legge che stava per uscire e tutto noi stiamo aprendo una casa di accoglienza e mi ha fatto un discorso e mi sono innamorato delle cose che mi diceva tante che mi sono subito perché io sono così affezionato a lui e sono arrivato a Bevera però lì a Castello Drianza dicevo ma cosa sono vicino perché alle quattro e mezza io buio dicevo ma però è stata una scelta secondo me azzeccata perché ho detto tutte le sere dicevo ma pensa si parla tante delle religioni però tutto il mondo è paese perché vedi un musulmano qua aiutato da un prete cattolico chi l'avrebbe mai detto sul resto però ho detto caspita proprio questo è l'unione delle religioni delle fede delle culture quindi nessuno deve cercare di fermare queste cose e la stessa cosa sta facendo anche padre Angelo con i ragazzi con tutti i volontari e volontari che vengono a dare la mano ci tenevo proprio a dirlo perché lo penso e lo dico anche quando lui non lo vedo non lo vedo non lo vedo noi ci sentiamo da anni da mesi però mi vengono sempre di mente il padre il Bevera ma il padre è una ragione perché dico parlo di te anche con le autorità seneganesi perché cioè è una cosa più forte di me non riesco a non dirlo quando incontro i miei diplomati senegansi dico guardate che per fortuna qua in Italia esistono esistono la Caritas esistono e cito il suo nome il padre di me guardate stanno facendo un lavoro che nessuno almeno dal mio punto di vista potrebbe ripagare quindi grazie padre Angelo grazie grazie stasera abbiamo filmato anche tutte le altre certo non possiamo dimenticare nessuna grazie 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 perché no perché spesso cioè il mio ufficio io dico no non ho orari non ho orari non ho orari non ho orari quindi quasi due mesi fa cercare di mettere insieme tutto quello che abbiamo ascoltato fino adesso per vedere se lunedì possono queste cose servire a qualcosa io sono convinto di sì e vorrei tanto ripeto recitidiamo davvero tutti la casa sul borsa che l'incontro di lunedì sia assolutamente non risolverà niente ma che sia l'inizio anche di una discussione molto molto franca delle persone che lavorano nell'assistenza perché e nell'accoglienza perché come dicevamo nella serata l'accoglienza come è fatta adesso lo anticipo non basta più non serve più e quindi dobbiamo trovare altre strade che possono portarci da qualche altra parte che non sappiamo ma che sicuramente dobbiamo trovare quindi ringraziando da partire a partire dal professor Carcinovati in giù tutti quelli che sono venuti qui a raccontarci il loro pezzo per vedere da lunedì di cominciare a mettere insieme questi pezzi per ultimi ringrazio davvero Musè ringrazio As e non possiamo dire molto di più ma credo che questa sera sia una sera dove dobbiamo portare a casa le sue parole e masticarle quindi grazie ancora a tutti e due buona serata a tutti arrivederci